Rama, impianti di riscaldamento di ogni tipo. Rama è un'azienda specializzata in impianti di riscaldamento centralizzati e singoli, ad acqua calda e a vapore, ad acqua surriscaldata, a pompa di calore, a dirraggiamento, a pannelli radianti e a calore diffuso. L'azienda Rama garantisce alta redditività e assoluta sicurezza ambientale, con interventi ad avanzato livello tecnologico e un servizio di assistenza completo e continuativo. L'azienda si occupa inoltre della vendita di sanitari, servizi di trattamento delle acque, impianti antincendio e di irrigazione, manutenzione su piscine, esercizio e manutenzione di impianti con relative forniture e materiali termo. Rama, abitare senza pensieri.